Situazione di nuovo delicata con la legge di stabilità che ha riacceso gli animi. Non basta il finanziamento o supplementare questi 2 miliardi in più? I 2 miliardi sono un atto dovuto, non sono una vittoria, sono semplicemente quanto era stato già definito nei mesi passati e quindi bene che ci siano e sicuramente un risultato positivo perché stabilizzano tutta una serie di situazioni, ma non sono la soluzione del problema perché ancora non bastano, non bastano per quanto riguarda nuove assunzioni e stabilizzazione dei precari. Forse sulla stabilizzazione dei precari le risorse più di tanto non sono indispensabili in quanto i precari a tempo determinato sono già all'interno del sistema, però abbiamo assoluto bisogno di forze fresche e quindi di dei giovani che possono entrare assolutamente per rimpinguare le forze di un sistema che sta andando assolutamente alla rovina per certi aspetti, che viene gestito molto spesso e mantenuto in piedi proprio da forze precarie perché i giovani nella maggior parte dei casi sono precari e portano all'interno del sistema anche la propria condizione di precariato, cioè scarse prospettive per la propria carriera e per il proprio futuro. Questa è proprio una delle principali criticità che riguarda anche la vostra categoria, quella degli anestesisti e reanimatori? Certo che sì, riguarda noi come riguarda varie altre specialità, ma per noi anestesisti e reanimatori e l'area critica, pensiamo ai pronti soccorsi, è particolarmente importante perché il carico di lavoro, lo stress è enorme e non si può affrontare non avendo una prospettiva certa di continuità del proprio futuro. Non è proprio accettabile da questo punto di vista, anche perché c'è un confronto continuo con chi invece è garantito perché è riuscito negli anni passati ad essere strutturato.